Benvenuti, vediamo questa sera un ricordo di quello che abbiamo fatto martedì scorso in cui abbiamo fatto uno script che permetteva a un oggetto, in questo caso questo cubo verde di seguire un certo percorso, quindi l'idea è quella di fargli andare in un punto punto 1 poi andare in un punto punto 2, punto 3 e punto 4, infine qua quindi vi faccio vedere un po' a dove arriveremo quindi cliccando il cubo, vedete che lui va e spercorre questo circuito dal punto 1 al punto 4 allora vediamo come abbiamo fatto a farlo allora per farlo la prima cosa da capire è come registrare delle coordinate di un punto qualunque sulla sim quindi vedete che noi abbiamo questo punto 1 che se io clicco questo oggetto, vedete che mi visualizza una certa coordinata e me lo fa vedere anche in chat qua vedete che c'è questa coordinata, questa equivale alla coordinata che avrebbe questo punto qua vedete che se io lo clicco mi fa vedere 64, 69, 1 che è questo, 85, 82, circa quello e lo z 22.18 e qualcosa ora, se sono così fortunato da essere su Firestorm in realtà le coordinate le posso anche prendere dalle caratteristiche dell'oggetto da qua ho un apposito tastino C che mi permette di copiarmi le coordinate di questo oggetto ma se io sono invece su Imprudence ecco qui che sono anche su Imprudence quando seleziono, cioè se io metto un se io creo qualcosa qua build e creiamo un oggetto qui nelle caratteristiche dell'oggetto no, in realtà qui abbiamo questo questo Imprudence c'è anche l'opzione di copia copy position però vedete che in questo caso nella lingua italiana è un po' scomoda copia quindi copio ce l'ho anche qua ok? e quindi posso in realtà farlo nell'ultima versione di Imprudence hanno anche questa opzione che è molto comoda però se uno non vuole copiare e incollare queste cose qua può usare questo scriptino che ho messo praticamente dentro questi segni a posto questi che sono dei segni a posto dove dentro c'è uno scriptino che è questo che si chiama Prendi i coordinate questo è uno script che quando viene toccato qua, cosa fa? comunica la getPos cioè le coordinate attuali dell'oggetto e le fa vedere come instant message in modo tale che si possano usare ok? quindi quello che succede è che io clicco e vedete che mi compare praticamente la coordinata faccio near by chat oppure ctrl h e ho le opzioni che posso copiare e incollare da qua niente, quindi a questo punto la cosa che abbiamo visto a lezione era come strutturare dei programmini che permettessero di muoversi da un punto all'altro quindi prendiamo questo oggetto rosso in cui c'è un primo scriptino molto semplice dove c'è scritto semplicemente che va verso una destinazione che noi gli diciamo vector, destinazione cioè quando è toccato va verso una destinazione allora la destinazione sarà una di quelle che abbiamo preso prima quindi cancelliamo la destinazione precedente e gli mettiamo quella che ci siamo copiati in quel modo lì vedete che lui prende questa destinazione e fa un ll set pose quindi salviamo lo scriptino questo è un scriptino didattico cliccando questo oggetto rosso vedete che l'oggetto rosso si è spostato verso la prima posizione quindi tutte le volte che io lo prendo ah, è andato nella posizione del cubo dove ho preso se notate una cosa se io lo metto molto lontano dal cubo e gli faccio e lo clicco lui va nella direzione del cubo ma non va esattamente nella direzione del cubo questo perché? perché è più distante di 10 metri lo vediamo meglio se lo lontiamo parecchio quindi lo mettiamo qua in fondo ecco se non lo clicchiamo vedete che si avvicina nella direzione della sua destinazione della sua destinazione ma non va proprio lì quindi se noi vogliamo fare in modo tale che vada ad esempio questo in questo punto qua basta che clicchiamo questo oggetto e poi prendiamo le coordinate qua seleziono tasto destro copia e poi vado e modifico questo scriptino e gli metto la destinazione di arrivo questa ctrl v salvandolo e quindi a questo punto questo qui dovrebbe andare verso questa direzione vedete che ci va ma si ferma perché non ci si può muovere mai più di 10 metri ok allora questo è il primo scriptino che abbiamo provato in realtà c'è uno scriptino migliore che questo che invece risolve il problema di spingersi oltre i 10 metri perché? perché lui in realtà c'è uno script vai a più di più di 10 metri questo qui in realtà lo script è leggermente più complicato nel senso che prendiamo lo script di prima ecco questo qui è lo script iniziale e questo qui è lo script che non ha più il vincolo di 10 metri quella è la differenza che mentre qui nello script si fa un ll set pause qua invece nello script che non ha limite si continua a fare while quindi si continua a fare ll set pause e si fa continuo a fare questo ll set pause finché la distanza fra la destinazione e la distanza corrente è maggiore di 10 centimetri quindi a questo punto se io clicco questo oggetto giallo ecco dunque l'ho rifatto un secondo perché mi era scappato comunque questo qui è esattamente identico a quello di prima abbiamo la destinazione e poi abbiamo un while che lo fa andare verso qui cioè dove abbiamo preso quindi se io clicco vedete che lui si sposta e arriva fino a quel punto il che è molto interessante salvo che appunto se noi vogliamo fargli fare tutto un circuito quindi andare dalla posizione 1, 2, 3 e 4 dovremmo in teoria complicare questo script e mettere consecutivamente queste soluzioni una dietro l'altra come abbiamo fatto a lezione ma in realtà il sistema più efficace è quello di mettere tutte le tutte le destinazioni quindi l'elenco del percorso tutte in una lista e quindi fare come abbiamo fatto in questo cubo verde dove abbiamo vai a percorso abbiamo messo all'inizio un elenco di destinazione quindi vedete che abbiamo la lista delle destinazioni che è una lista composto da varie coordinate magari possiamo fare che la prima coordinata coincide con l'ultima qui quando avete delle coordinate fate attenzione che deve essere una lista quindi la lista è fatta tipicamente da A, B, C, D quindi non ci va la virgola solo fra tutti gli elementi intermedi ma l'ultimo elemento non ha la virgola separatoria quindi ho messo la lista dal prima posizione all'ultima quindi salvandolo questa cosa noi abbiamo che il nostro oggetto vedete che va dal primo e torna all'inizio quindi segue questo percorso notate che in realtà questi elementi qua siamo per questo qui il secondo possiamo anche allontanarlo quindi metterlo lontano e qui l'unica cosa che appunto dobbiamo farci dire le sue coordinate perché questo qui è il secondo e sostituirlo quindi prendiamo CTRL C e lo mettiamo lo sostituiamo alla posizione precedente eccolo qua quindi salvandolo e poi ricliccandolo e a questo punto questo qui si muove e fa un po' si muove cercando di fare il percorso e diciamo con questo vabbè poi qui si possono anche fare si può anche sedersi sull'oggetto si può magari mettersi in adesso poi lo vedremo meglio un'altra volta comunque qui possiamo andare in escape che vuol dire che andiamo in mouse look comunque già così va bene e possiamo comunque cliccare sulla cosa e praticamente il nostro avatar si muove insieme ok ed eccoci finalmente con l'ultimo pezzo di script che è un pochino più migliorato vedete che questo cubo blu ora ha la possibilità di si dirige cioè praticamente si gira verso dove deve andare e questo è importante perché se io mi siedo vedete e poi clicco sul cubo vedete che l'avatar gira insieme al cubo e quindi verso la direzione successiva lo script che è qua è più o meno come l'altro però ha alcune funzioncine che permettono di ruotare l'avatar che è in pratica identico a quello precedente ma ha queste funzionalità di rotazione dell'avatar e già specifica il sit target per far sedere l'avatar in maniera corretta quindi ora a seconda delle vostre esigenze potete valutare se usare appunto uno di questi script quindi questo qui è semplicemente questo che muove oppure usare lo script diciamo più avanzato quello col sit questo qui blu questo qui va a percorso con rotazione che troverete in pastebin troverete tutti questi script uno per ciascuno e li potrete utilizzare spero che questa lezioncina sia stata di qualche utilità che riusciate quindi a fare qualcosina d'altro la premessa base di tutti questi script è la possibilità di poter far muovere un prim attraverso o questa istruzione ll set pose verso una destinazione o un while che gli permette di muovere l'oggetto verso una posizione che è più lontana di 10 metri in questo modo potete fargli arrivare l'oggetto ovunque nella sim quindi simulare anche dei teletrasporti o altro e per cui con questo è tutto